Onorevole Wikileaks pubblica retroscene inquietanti per quanto riguarda la morte dell'agente del sismi Calipari, Palazzo Chigi nega, ma Berlusconi si rifiuta di venire a riferire al Copasir. C'è una legge dello Stato che prevede che Berlusconi debba venire al Copasir, lui la disattende da quando è stato eletto e le cose che sono emerse in questi mesi riguardante adesso Calipari, prima le questioni del gas con la Russia e le altre vicende legate alla sua sicurezza personale e al suo rapporto con i paesi stranieri impongono la sua presenza. Il caso Calipari poi è di una gravità estrema riguardante un servitore dello Stato che sembra non sia stato tutelato nemmeno dopo morto dal nostro governo. Un fatto su cui richiediamo chiarezza, richiediamo risposte certe e chiare, se Berlusconi non le vuole dare davanti al Copasir le dia davanti al Parlamento.